Mando, un piano, due, uno, quattro. Mando, un piano, due, uno, quattro. Cavalca, cowboy! Yuhuu! Yeeha! Yeeha! Oh, oh, no, 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 mi arrendo! Prendi pure tutto quello che vuoi. Può gentilmente dirmi cosa starebbe facendo? Oh. Solo quattro risate, signore. Le ultime ricerche dimostrano che la risata aumenta la secrezione di catecolammine ed endorfine. Il che a sua volta aumenta l'ossigenazione del sangue, rilassa le arterie, accelera il cuore, abbassa la pressione sanguigna, con effetti positivi sulle malattie respiratorie e cardiovascolari. E in più aumenta la risposta del sistema immunitario. E in più aumenta la risposta del sangue, rilassa, 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 Grazie a tutti